buongiorno a tutti allora proseguiamo con la giornatona e le e i vidioni del gigione con un po di barzellettine perché era un po che non vi facevo le barzellette e allora ho pensato ma sì dai oggi facciamo un po di di barzellette ne ho qua una una sfilza adesso vedo la lunghezza del video al massimo non ve le dico tutte le altre le dirò in un'altra occasione partiamo con la prima che è un po un divertimento diciamo ci sono varie categorie di personaggi animali eccetera eccetera e c'è la freddura quindi partiamo con la colomba che è l'uccello della pace la donna che è la pace dell'uccello l'uomo cerca la pace per il suo uccello lo scapolo non lascia l'uccello in pace la zitella conosce l'uccello però non la pace la divorziata ha perso la pace e anche l'uccello la vedova gli morì l'uccello e non vive in pace il vedovo ha perso la pace dell'uccello la moglie assicura l'uccello e anche la pace il marito ha pace sicura per l'uccello il vecchio ha l'uccello in pace la vecchia dovrebbe aver pace però pensa solo all'uccello bene tre dure berlusconi sa che sta per morire e si riunisce con i suoi amici fidati per decidere dove farsi seppellire certamente all'uomo simbolo di milano suggerisce il sindaco moratti io direi san siro repica galliani tutte le domeniche mercoledì di coppa ci sarebbe un pellegrinaggio davanti alla sua tomba io ho un'idea migliore in palestina al santo secondo al santo sepolcro pronuncia carlo maria martini l'es vescovo di milano mi sono già informato costa 200 milioni di euro mi piace l'idea lo interrompe il cavaliere ma non è un po troppo per soli tre giorni proseguiamo con l'altra barzellina barzellettina a scuola c'è uno sfigato che sta appartato in angolo è un figo che invece ha cerchiato dalle ragazze ad un certo punto il figo nota lo sfigato gli punta al dito e lo prende di mira e tu chi io lo sai chi è rolle no non lo so è quello che te lo mette in culo duro e te lo tira fuori molle il giorno dopo lo sfigato cerca di non farsi vedere ma il figo alla fine lo trova ed ancora gli domanda chi è rolle lo sfigato ci casca ancora la scena si riflede per diversi giorni un giorno lo sfigato tornando da scuola incontra un suo amico ciao tutto bene a scuola come va e non va tanto bene c'è uno più figo di me che tutte le volte mi chiede chi è rolle io non mi ricordo allora lui mi risponde che quello che lo mette in culo duro lo tira fuori molle beh ma fatti furbo adesso quando lo vedi prima che parli lui tu gli domandi chi è nando e chi è nando è quello che te lo mette in culo cantando camminando lo sfigato tutto contento si avvia verso casa e continua a ripetere la stessa frase per memorizzarla e acquistare quindi sicurezza il giorno dopo a scuola lo sfigato quando vede il figo si fa e tu dice a me lo sai chi è nando si è l'amico di rolle e chi è rolle un signore distinto si reca in un negozio di dischi chiede l'ultimo disco di adriano celentano il commerciante si reca sul reto e torna con il disco a quel punto il signore tira fuori una banconota da 50 euro ma il commerciante gli fa sono spiacente ma appena aperto il negozio non ho da cambiare però se vuole le posso dare anche 24.000 baci lasci stare a una certa fretta mi basta solo ci siamo capiti un po c'è uno tutto nudo ed eccitato che si ritrova scaraventato nel corridoio di un convento chissà come mai ad un certo punto passano tre suore e il tipo per non farsi sgamare pensa bene di immobilizzarsi e fingersi una statua quando le tre suore lo vedono non possono fare a meno di ammirare l'opera d'arte la prima suora inizia a toccare la scultura e fa notare sentite sorelle come ben levigata sembra addirittura vera le pensano proprio tutte per migliorarci la vita qui in convento questa è davvero una bella trovata la seconda suora ha ragione sorella probabilmente l'hanno trasportata qui utilizzando questo manico altrimenti non mi spiego a cosa possa servire è proprio vero che le pensano tutte sente anche lei come rigido la terza suora allora prova a toccare il manico perbacco tu sorella avete proprio ragione ma 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 aspettate un momento ah finalmente ho scoperto cos'è è il distributore di sapone liquido un prete va a fare le benedizioni in campagna quando viene sorpreso da un temporale il padre di famiglia allora lo invita a passare la notte a casa sua padre non posso permettere di farla andare via con questo tempo si fermerà qui e passerà la notte nel letto con mia figlia tanto lei è un uomo di chiesa durante la notte la figlia padre me lo mette in mano figliola fingo di non aver sentito sono un uomo di chiesa io padre me lo mette fra le poppe figliola ti ho già detto che sono un uomo di chiesa farò il sordo anche questa volta padre me lo mette fra le gambe via figliola allora sono un uomo di chiesa padre me lo metta dove le pare basta che me lo toglie dal culo durante la ricreazione pierino va alla lavagna e scrive pierino c'ha il bip più lungo di tutti la maestra rientra in classe vede la scritta infuriata corso il cuore verso pierino e prendendolo per un orecchio gli urla pierino sei il solito disgraziato per ora va in punizione dentro la lavagna poi essere in classe a lezione finite i compagni di classe di pierino preoccupati per l'amichetto lo aspettano fuori dalla scuola dopo l'uscita dopo un'ora pierino esce di compagni gli si stringono intorno allora pierino com'è andata ti ha sospeso ma che ragazzi ve l'ho sempre detto io che la pubblicità è l'anima del commercio due carcerati du tu cosa hai fatto per stare qui un giorno torno a casa dal lavoro trovo il mio miglior amico che si tombava mia moglie sei colpi di pistola ed eccomi qui e tu cosa hai combinato e sapessi una strage no non mi dire pure sempre tanto una persona per bene dimmi come hai fatto una sera torno a casa e dico a mia moglie caro cara sono a barzelletta che fa morire da ridere gliel'ho raccontata e non l'avessi mai fatto ha riso per un'ora un attacco cardiaco la stroncata mi hanno subito arrestato e processato per direttissima il giudice allora mi fa ce la racconta questa barzelletta che lei ci fu a far credere come causa della morte di sua moglie ed io gliel'ho raccontata non ti dico sono tutti scoppiati a ridere tranne i due carabinieri di servizio dopo alcuni mimonduti sono ospirati dalle risa l'avvocato difensore del pubblico ministero e da lì via via ognuno ogni minuto il giudice la giuria e dopo una settimana sono morti anche i due carabinieri un uomo va a suonare il campanello della vicina appena lei apre lui le chiede sottovoci scusi signora una cortesia mi dica ma lei ce l'ha la figa io ma scusi che domande mi fa naturalmente abbastanza imbarazzata no mi dica ce l'ha o no insiste l'uomo certo che ce l'ho la figa allora gli deve dire a suo marito di usare la sua invece di consumare quella di mia moglie porca miseria un bimbo torna a casa da scuola molto triste dice alla mamma la maestra è sempre gentile con tutti i miei compagni tranne che con me chiama gli altri giorgino robertino paolino marchina ma invece no la mamma lo consola non te la prendere pompeo te lo spiego quando sarai più grande per un gualzo al motore si ferma il motoscafo tragica morte di dieci carabinieri scesi a spingerlo muoiono affogati a 50 metri di distanza ripescato il corpo di uno di loro era andato a mettere il triangolo due amici per strada vedono passare una bella ragazza e uno dice all'altro vedi quella so di per certo che prende dei cazzi lunghi così e l'altro ma ma quella mia sorella sì ma fini 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 due topini si vantano delle proprie prudesse sessuali ieri mi sono fatto una giraffa una fatica boia e perché non faceva che dirmi baciami in bocca leccami la figa baciami in bocca leccami la figa baciami in bocca leccami la figa un uomo appena morto si trova dinanzi a san pietro e mentre in attesa di entrare in paradiso sente delle urla strazianti di dolore preoccupato chiede a san pietro da dove provenivano quelle urla san pietro risponde dal laboratorio stanno trapanando ad un nuovo arrivato le scapole per attaccare le ali dopo un po si sentono altre urla strazianti di dolore e domanda perché altra grida e san pietro gli spiega che in un altro laboratorio stavano trapanando la testa ad un nuovo angelo per mettergli l'aureola dunque l'uomo spaventato protesta e dice a san pietro che vuole andare all'inferno e san pietro gli dice guarda che poi lì ti faranno un culo così e l'altro gli risponde sì però almeno il buco lo è già fatto la moglie si lamenta con il marito perché ha il seno troppo piccolo e gli domanda che cosa può fare il marito le risponde di passarsi della carta igienica una o due volte al giorno informandola perché però ci vorrà del tempo allora la moglie gli chiede il motivo per cui questa cosa dovrebbe funzionare il marito le spiega che se è funzionato con il sedere dovrebbe funzionare anche con il seno in questo momento il marito è in prognosi riservata all'ospedale se tutto va bene dovrebbe uscire tra qualche mese poi dovrà fare tanta ma tanta riabilitazione la moglie nel frattempo è latitanta detto questo ragazzoli spero di avervi strappato almeno un sorriso e ci vediamo ai prossimi video ciao ciao